Ciao, ben tornato sul canale di Stats4Bats. Nel video di oggi andiamo ad analizzare il big match di domani di Pasquetta, quindi intanto buona Pasqua tra Napoli e Roma. Faccio il video direttamente dal cellulare perché come vi avevo anticipato nel video precedente con tutta la giornata di Sariah, oggi ovviamente sono fuori, non sono a casa, sono impossibilitato da girare il video nello studio, però comunque ci tenevo ad analizzare il big match di domani e quindi lo facciamo direttamente dall'interno del cellulare. Tra l'altro è anche una buona occasione per vedere come mostra i dati il superfoglio in versione mobile, infatti io faccio i video spesso e volentieri direttamente dal pc per una questione di comodità, ma la maggior parte degli utenti e io stesso, in realtà il superfoglio lo utilizziamo prevalentemente da cellulare piuttosto che da pc. Quindi andiamoci ad analizzare un po' la partita. Attualmente c'è a livello statistico un leggero favoritismo, anzi non favorimento per il Napoli, 46, 26, 27. Le quote stanno scendendo sul Napoli, partiva da quota 2, adesso è arrivata a quota 1,85. Quindi diciamo che a 24 ore, poco più di 24 ore all'inizio del match, in questo momento sono le 11, si sta scendendo un po' a favorire il Napoli. Ovviamente la ragione è intuibile, il Napoli con una vittoria arriverebbe a 69, quindi nuovamente a due punti dal Milan è sicuramente un interesse, quello della classifica del Napoli, che ha il suo peso, oltre al fatto che probabilmente il Napoli è un po' più forte della Roma, ci sta come visione, come opzione. La Roma dal canto suo sta lottando con Lazio e Fiorentina, in particolar modo per gli ultimi posti europei. Molto difficile raggiungere la Juventus, anche se comunque lo stop imprevisto ieri col Bologna hanno raggiunto un punto al 95, ma comunque possiamo considerarlo uno stop grave per la Juve, potrebbe rilanciare qualche speranza della Roma. Se la Roma riuscisse a vincere a Napoli andrebbe a 60 e farebbe diventare veramente interessante quest'ultima parte di campionato, se la Roma dovesse, non ci credo molto, ma se la Roma dovesse raggiungere il quarto posto farebbe veramente un piccolo miracolo. Quindi diciamo che in questo momento non è facilissimo, però abbiamo qualche opzione, qualche speranza per me, da tifoso dico, di vedere la Roma provare a fare il risultato col Napoli. C'è da dire che la Roma ha giocato in Coppa, ha fatto una bella prestazione, però comunque il Napoli ovviamente è stato un impegno che non ha avuto. In casa il Napoli fa 9 vittorie e 2 pareggi, ma attenzione, 5 sconfitte. La Roma dal canto suo in trasferta fa 7 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. In generale nell'ultimo periodo la Roma è leggermente meglio, 4 vittorie e 1 pareggio, nelle ultime 5 trasferte 3 vittorie e 2 pareggi. Il Napoli nelle ultime 5 ha rimediato 2 sconfitte e anche in casa nelle ultime 5 ha rimediato queste 2 sconfitte, quindi quella con la Fiorentina e quella con il Milan. Il che significa che tendenzialmente ci potrebbe stare una piccola sorpresa. Anche tra i risultati esatti vediamo l'1 a 1, però poi 2 a 0 per una o 2 a 0 per l'altra. Quindi c'è questo dualismo, la doppia chance 1-2 in questo momento 73,6% è la percentuale più alta. Vediamo l'aspetto dei gol. Non è altissima la percentuale dei gol, perché comunque le due difese sono due buone difese. Infatti anche la quota del gol è abbastanza alta, a 1,75. Andiamo a vedere quella dell'over. Quella dell'over che sale quindi da 1,80 sale a 1,91. Diciamo che la visione del bookmaker in questo caso è di una partita con non tantissimi gol. Infatti l'intelligenza artificiale si rifugia nel pronostico solitamente scelto quando è meno chiara la visione. Multigol 1-4. Quindi non riesce a intravedere né l'over né l'under in maniera chiara. Potrebbe essere una partita con 1 così come con 3 gol e si rifugia diciamo nel multigol 1-4. C'è la metrica della Formula 4. Quindi in questo momento se ritorniamo a vedere le quote della 1-X2 vediamo che in effetti con la quota della X a 3,60 quindi tirata un po' per i capelli c'è la metrica della Formula 4 che ricordiamo ci porta solitamente all'over 1,5 e al gol della squadra sfavorita. Però appunto a 3,60 è un po' tirata per i capelli. La vera Formula 4 si chiama così quando due quote su tre stanno proprio nel range del 4. Quindi anche la X doveva stare intorno a quota 4. In questo momento possiamo considerarla un po' tirata per i capelli ma ci potrebbe stare. Ne viene fuori una partita veramente molto difficile da analizzare. Io purtroppo la Roma come vi ho detto anche altre volte la sbaglio praticamente sempre perché comunque c'è sempre quell'aspetto un po' di scaramanzia quindi non la do mai per vittoriosa. Allo stesso tempo ci spero sempre un po' quindi cerco di cercare dei numeri che mi assecondino diciamo in questa speranza. Io questa la vedrei da 1x over 1,5 in totale onestà e come il risultato esatto più probabile per Napoli-Roma mi immaginerei un 1-1. Questo che probabilmente è un risultato che in realtà non serve a nessuno perché la Roma non guadagnerebbe nulla sulla Juventus e neanche sulla Lazio perché comunque non vincendo non prenderebbe punti su nessuno anzi li perderebbe nei confronti della Fiorentina. Allo stesso tempo anche per il Napoli arrivare a 67 non avrebbe grande senso cioè per la rotta a Scudetto non gli darebbe questo grande aiuto. Io la sposto leggermente sul Napoli perché comunque mi sembra che le quote stiano andando lì e lo stiano facendo con un allibramento totalmente adeguato a quello del campionato totalmente attaccato a quello medio 5,64-5,66 quindi secondo me si va sulla 1x se devo scegliere una delle due vittorie allora è più facile un 2-0-2-1 Napoli però sperando che la Roma riesca a fare qualcosa mi sceglierei l'1-1 quindi accendiamo la 1x Roma-Napoli 1x over 1,5 in questo caso il risultato esatto direi 1-1 per questo video è tutto vi faccio nuovamente gli auguri di buona Pasqua e ci vediamo nel prossimo video